Prego. Buongiorno. Buongiorno, prego si accomodi signora. Grazie. Dunque, avendo letto attentamente la sua denuncia, nei confronti del professor Michele Soavi, chirurgo primario della clinica Santa Margherita in Roma, posso immaginare che la sua deposizione sia dolorosa ed imbarazzante. D'altra parte, deve tenere presente che il corso della giustizia non si può fermare e per proseguire noi abbiamo bisogno di raccogliere una serie di elementi chiari e dettagliati. Sì, me ne rendo conto, infatti sono a vostra disposizione. Bene, allora possiamo procedere. La prego di raccontarmi dettagliatamente ogni particolare della sua triste esperienza. Certo. Io e mio marito siamo sposati da circa tre anni e lui gestiva un ristorante in Via Tuscolana a Roma. Gli affari non andavano molto bene e così dovete licenziare il cuoco e occuparsi lui stesso della cucina. Nei momenti liberi anch'io andavo ad aiutarlo. Non riuscivamo a guadagnare un granché, però non potevamo lamentarci i soldi di cui disponevamo, bastavano per andare avanti. E in più avevamo in progetto di avere un bambino e quindi eravamo particolarmente felici. Finché quel maledetto giovedì di dicembre... Manuela! Aiuto! Massimo! Massimo, cosa c'è? Signor Massimo, non si sente bene? Massimo, guardami! Chiamiamo un'ambulanza! Mio marito venne ricoverato in ospedale e gli fu riscontrato un grave aneurisma alla vena orta. Appena fu dimesso ci rivolgemmo a un chirurgo che ci fu consigliato da alcuni amici. Controllando tutte le sue analisi, francamente vi devo dire che il problema non è affatto di semplice risoluzione. Vede, cercherò di essere chiaro. Il suo aneurisma ha provocato un conseguente ingrossamento della vena orta di circa tre centimetri. Chiedo scusa, ma allora a questo punto cosa ci consiglia di fare, professore? Vista la delicatezza dell'intervento, quello che io posso consigliarvi è di consultare il primario della mia clinica, il professor Suavi. Sì, professore, io vorrei soltanto che tutto avvenisse al più presto. Non riesco più a vivere con questo inco. Per questo non c'è nessun problema, perché oltre ad essere il primario della mia clinica, il professor Suavi è un mio carissimo amico e provvederò io stesso a fissarvi un appuntamento tra due o tre giorni al massimo. Potete stare più che tranquilli. Mio marito era terrorizzato. Oltretutto il parere di quel medico, che aveva fama di essere un chirurgo molto bravo, lo aveva completamente distrutto. E poi, il susseguirsi di continue analisi cliniche, ci facevano spendere un mucchio di soldi, avevamo dilapidato quasi tutti i nostri risparmi. Non riuscivamo neanche più a seguire la nostra attività al ristorante. Mi scusi, signora, ma perché non vi siete rivolti alla USL? Potevate risparmiare il vostro denaro con un normale ricovero ospedaliero. Vede, signor giudice, io e mio marito abbiamo quasi sempre lavorato a nero e quindi non potevamo godere di assistenza sanitaria. Ma non era neanche questo il vero problema. Attraverso il disbrigo di alcune pratiche avremmo potuto usufruirne, solo che mio marito non voleva. E perché? Perché? Perché quando qualcuno deve affidare la propria vita nelle mani di un altro, cerca sempre il migliore. E non sempre gli uomini migliori lavorano per lo Stato. Ma, boh, questa è una tesi alquanto discutibile. Comunque, come andò il vostro incontro con il professor Soavi? Bene, due o tre giorni dopo, il professor Tremonti ci telefonò per dirci che aveva parlato con il professor Soavi esponendogli il nostro caso. E inoltre aveva preparato un'accurata relazione. Così noi passamo dal suo studio a ritirarla e ci recamo l'appuntamento. Professore, il signor Irea. Li faccia entrare. Buongiorno. 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 Molto lieto. Piacere. Si accomodi. Grazie. Piacere. Prego. Grazie. Lei può andare, signorina. Bene. Perché avete voluto vedermi? Come già saprà, mi hanno riscontrato un aneurisma alla vena orta. Il professor Tremonti mi ha consigliato di venire da lei. Ha preparato anche una relazione scritta. Se vuole darle uno sguardo, l'ho portata qui con me. Prego. Bene. Da quello che ho visto finora, sarà necessario prescriverle altre analisi. Comunque non è un problema di semplice risoluzione. La prego, professore. Non parli così con mio marito. Perché lui è un tipo un po' apprensivo e quando si discute della sua salute bisogna stare molto attenti perché si innervose... Manuela, se io sono nervoso, ho i miei buoni motivi per esserlo. E ti prego di fare silenzio, va bene? Per favore, calmatevi. Conosco queste situazioni. È necessario mantenere molta calma e tranquillità. Le prescrivo alcune analisi e poi ci rivediamo. D'accordo? Fra tutte le altre analisi ci fu richiesto un costoso studio emodinamico che comportò il ricovero di mio marito per tre giorni presso la clinica Santa Margherita. Scusi l'ignoranza, signora. Io riscontro che lei è in possesso di un vocabolario medico di cui io ignoro completamente i termini. Vorrebbe spiegarmi che cosa significa studio emodinamico. Sì. In effetti anch'io non conoscevo questi termini e purtroppo ho dovuto imparare a conviverci. Comunque, quando c'è un aneurisma si verifica il rigonfiamento di una parte della vena che rischia di rompersi con gravissime conseguenze. Quindi è necessario intervenire chirurgicamente. Per fare questo è indispensabile uno studio emodinamico. Questa analisi permette di identificare il flusso sanguigno circolatorio ed eventualmente se ci sono ostruzioni coronariche. È stata chiarissima. E cosa risultò da queste analisi? Che l'operazione sarebbe stata particolarmente complessa. E le speranze di farcela erano davvero pochissime. Perché stai così? Devi cercare di essere forte. Tesoro, non puoi lasciarti andare in questo modo. Cerca di ascoltarmi. Bisogna affrontare la situazione con tranquillità. Devi capirmi. Sai che sono un tipo apprensivo. Questa operazione mi fa molta paura. Lo so che ti fa paura. Io ti conosco molto bene. Ma sento che c'è dell'altro. Sì, è vero. Ho parlato con l'analista. Lui mi ha detto che... Difficilmente questo intervento riuscirà. L'unica nostra speranza era il professor Soavi che nel passato aveva già operato casi simili e con successo. E quali furono le condizioni poste per l'operazione dal professor Soavi? Il professor Soavi volle incontrare da solo mio marito. E io sono convinta che lui avesse già in mente il suo lo scocchiano. Signore, francamente la situazione è abbastanza complessa. Potrei operarla presso la mia clinica. Ma le anticipo che l'operazione sarà molto costosa. Cos'è intende dire? Costosa quanto? Ma diciamo che tra il ricovero, l'anestesia e il mio cachet... Ci vorranno 300 milioni. 300 milioni? Senza naturalmente considerare tutte le terapie post-operatorie. Non è proprio possibile, professore. Io sono un cuoco, un lavoratore. Gestisco da poco un piccolo ristorante in via Tuscolana. Davvero non saprei dove trovare questa cifra. C'è un'altra soluzione. Provi a rivolgersi alle unità sanitarie locali. Alle USL? Affidare la mia vita alla mutua e agli ospedali italiani. Lei è del settore e credo che sappia quello che succede. Posso comprenderla. È una triste realtà del nostro paese. Voglio parlarle un po' di me. Lavoro da 25 anni. Ho raggiunto tutti gli obiettivi, anche quelli economici. I soldi non mi interessano. Posso farle l'operazione gratis. Ma ha una condizione. Quale condizione, professore? Francamente, detto tra noi, lei ha una splendida moglie. La sua vita in cambio di due giorni con lei. Mio marito dopo quell'incontro era estremamente angosciato. E non vuole parlarmi subito di quella proposta a O'Shea. Massimo. Eh? Tutto ok? Sì. Tesoro, ti senti bene? Sì. Mi dai un bacino? Non preoccuparti. Non fare così. Vedrai che presto finirà tutto. vorrei vedere te nelle mie condizioni se parleresti in questo modo. Massimo, devi capire che il professor Soavi è uno dei migliori al mondo. Vedrai che l'operazione andrà bene. Cerca di stare su. Non è l'operazione che mi preoccupa. All'inizio volevo denunciare subito l'infamia di quell'uomo. Ma poi mi resi conto che era in gioco la vita di mio marito. E che non c'era tempo da perdere. Fu per questo che accettai la sua proposta. Gli telefonai e ci mettemo d'accordo per vederci due giorni dopo. Non ne parlai con mio marito. A lui dissi che andavo dai miei parenti a Reggio Calabria per vedere se riuscivo a raccimolare un po' di soldi vendendo una vecchia proprietà terriera. Fu così che il 20 gennaio di pomeriggio mi recai nella residenza del professor Soavi. Professore, la signora è arrivata. Falla entrare. Prego, si accomodi. Buonasera. Buonasera, signora. Le ho messo a disposizione un'accogliente camera al secondo piano. Lì troverà degli abiti. Indossi il più bello e ritorni qui per le nove. Ubaldo, accompagna la signora. Prego. Fui alloggiata in una stanza della residenza dove trovai alcuni abiti e della biancheria. Feci una doccia e la sera mi recai al cospetto del professore che era in compagnia di alcuni suoi amici. L'atmosfera era tesa e tutti erano in silenzio.